Bene amici, ieri bella giornata per tanti, non per tutti, lo sappiamo con il REM e l'assegno unico di competenza agosto che arrivano a braccetto tra il 7 e il 12 ottobre. Poi c'è lo sblocco anche di alcuni bonus onnicomprensivi eccetera, ma se questa è l'attualità di aiuti vecchi che stanno arrivando ora, in moltissimi vorreste anche giustamente sapere del futuro. Mr. Lull, tizio dice, Caglio scrive che ci saranno nuove rate di REM e nuovi bonus per gli stagionali, ma quando arriva anche questo reddito minimo europeo e di quanto sarà l'aumento del reddito di cittadinanza a ottobre con l'importo raddoppiato da draghi, pensate un po', e con quadrupli pagamenti? Ecco, facciamo il punto perché c'è del vero, ma c'è anche molto molto falso. Io sono Mr. Lull, seguite tutto il video fino alla fine, altrimenti vi perdete dei pezzi importanti, e mi raccomando, like, iscrizione, campanone, condivisione, abbonamentone se volete aiutare il canale, e adesso, sigla! Reddito minimo europeo Reddito minimo europeo Non è stranamente una fake news La dichiarazione arriva dal commissario al lavoro UE Schmidt, e cito Ci vuole un reddito minimo europeo per tutti i giovani senza risorse, una indennità minima di garanzia per aiutare le persone, e la commissione UE è già al lavoro per presentare una proposta organica. Certo, una proposta da qui a pensare che nel breve possa realizzarsi una sorta di reddito di base universale, ne passano di anni luce, però ecco, diciamo, qualcosa almeno si muove. Reddito di emergenza Qualcuno di voi è graniticamente, si dice graniticamente, sì, graniticamente convinto che saranno, o addirittura siano già state previste, tre nuove rate. Però ad oggi, ragazzi, non è così. Attenti, non è assurdo pensare che parallelamente allo stato di emergenza possano seguire nuove rate di reddito di emergenza, anzi, è buonsenso. Il fatto è che finora non ne ha parlato nessuno del governo e all'orizzonte non ci sono nuovi decreti emergenziali previsti, per ora. Discorso simile, ma non del tutto, per eventuali nuovi bonus onnicomprensivi. Infatti, se leggiamo la Nadef, vi metto il link in descrizione, viene riportato, come segnalato, dal Sole 24 Ore e ripreso da Tutto Lavoro 24, non l'ho scoperto io, e cito, A tutela del lavoro sono autorizzate nuove risorse per i trattamenti di cassa integrazione, fondi di solidarietà, eccetera, e la corrisponsione di un'indennità, una tantum, a favore dei lavoratori del settore turismo, spettacolo, sport, e circa 3 miliardi nel 2021. Ma questo vuol dire che ci saranno dei nuovi bonus? Io sinceramente penso sia il resoconto dei 3 miliardi già impegnati nel 2021, come emerge da questo grafico, sempre compreso nel documento, anche se la formulazione nuove risorse potrebbe lasciare spazio a delle speranze. Piedi per terra, però, perché di certezze, lo sapete, non ce ne sono esattamente come per il REM, anche se ce ne sarebbe davvero parecchio bisogno, soprattutto in certi settori. Per gli eroi, però, che sono arrivati fin qui, che mi hanno seguito fin qui, chiudiamo con l'apoteosi, colpo di teatro. RDC ottobre, quadruplo pagamento, Draghi raddoppia il sussidio, tutti ricchi i percettori di RDC, come anche i pensionati, almeno a sentire certi giornali e certi siti. Ecco, non c'è alcun quadruplo pagamento, ci saranno, però, quattro flussi sulle carte, sulle card ad ottobre, due flussi integrativi sono gli arretrati dell'assegno unico ponte di agosto-settembre e, per qualcuno, anche luglio, mentre altri due flussi saranno il sussidio mensile RDC, vero e proprio. A metà mese RDC arriva per chi attende la prima ricarica o gli arretrati, a fine mese, invece, RDC arriva per la mensilità ordinaria, dalla seconda alla diciottesima, il mese di ottobre. Quindi, quindi, è la solita non notizia e, tra virgolette, presa per i fondelli, RDC non aumenta, non raddoppia, non triplica, non quadruplica, è sempre uguale dal 2019, solo che adesso arrivano, quando arrivano, a parte anche le integrazioni dell'assegno ponte per minori. Punto. Detto questo, ho parlato fin troppo, fatemi sapere cosa ne pensate invece voi, qui sotto, nei commenti. Vi ringrazio, se la rassegna è stata interessante, like, iscrizione, campanone, condivisione, come se non ci fosse un domani e, se volete aiutare il canale, c'è anche il tasto abbonamentone. Alla prossima, grazie, da Mr. Lul. Grazie a tutti.